Per circa un'ora e mezza risposta alle domande dei pubblici ministeri, in rende fra dai carchietti, l'avvocato Piero Amara, fra i principali protagoniste dell'inchiesta della procura di Messina sul cosiddetto sistema Siracusa, ha reso uno spaccato su come sarebbero avvenuti gli episodi di illecito legati a corruzione di giudici e su come siano state pilotate alcune inchieste giudiziarie. Vestito di blu scuro, come la cravatta sulla camicia azzurrina, Amara ha mostrato una particolare serenità e precisione nella ricostruzione di alcuni dei fatti per i quali è stato sollecitato il ricordo. Quello principale per il quale ha risposto in aula, dove si sta celebrando il processo con il rito ordinario, è la presunta corruzione del magistrato Giuseppe Mineo, accusato e reato di corruzione. L'avvocato Amara ha sostanzialmente escluso di aver mai consegnato denaro direttamente a Mineo, ma di aver raccolto il suo invito ad aiutare l'amico ex presidente della regione siciliana Giuseppe Drago, che doveva sostenere delle spese importanti in Malesia, dove si trovava ricoverato per sottoporsi a delicate terapie. Amara ha quindi riferito di aver trasmesso a Drago la somma di 115.000 euro. Il test ha anche detto delle mire del professore Mineo di accedere al Consiglio di Stato, operazione che per vari motivi non sarebbe stato possibile concretizzare. Altro capitolo, affrontato dall'avvocato Amara, è il finanziamento del movimento politico ALA, che faceva capo all'ex parlamentare Denis Verdini, anche egli imputato in questo processo. Nell'udienza di ieri sono stati escussi anche cinque magistrati. Per primo è comparso il sostituto procuratore Marco Bisogni, oggi in servizio alla procura di Catania, il quale ha riferito delle vicissitudini avuti con gli avvocati Amara e Calofiore culminate in reciproche querele e citazioni dirette. Sulla lettera sottoscritta agli otto magistrati, all'epoca dei fatti in servizio alla procura retusea, dalla quale poi scaturita l'inchiesta e la procura messinese, hanno riferito i sostituti procuratori Grillo, Nitti, Brianese e Guarnaccia. Tutti i testi dell'accusa hanno confermato di aver notato delle anomalie in alcuni fascicoli dell'inchiesta.